Musica Musica Ma non adesso non basta che ci si deve farlo dire Oggi ho fatto come il bastone e la carota Come è là Vai Thomas Vai Thomas Brava Brava Musica Giaco non ti metti in mezzo alle pietre Se devi ripartire Vai Così vai Piste che riparti Musica 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 Aubame Però vi avevo visto sopra Mi sono fermata di passare Ma io sai che Sì, vabbè, io... Cavalletto, cavalletto. Sì, sì, che tardi sì. Sì, ora vengo. Il primo più piccolo che pedala chi è? Thomas! Che pedala? Che pedala? Che pedala ce lo riporto. Quanti anni hai? È troppo. Attrazione. Oddio quanto è successo lo faccio pelato ma... dai tiri due pietre su dai non fai niente come sia sia non si hai vai 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 Bautacola! 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 Bravo Giacomo dai! Vedi che bello qua? Occhio giù eh! Ciao! Bautacola! Perché a volte è lei che ti forza su e vuole bene! Bautacola! 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 Vabbè! Papi io sono stato il modico che lo fai! Bravo! Vai parte bene! Vai vai partite. Grazie.